Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannatasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico e tra Firenze in Truneta e il Bivio per la 11. In A11 in direzione Firenze code a tratti tra Montecatini e il Bivio per la 1. Sulla Fipili per il ripristino di un incidente tra Genestra e Lastra, 3 km di coda in direzione Firenze e 2 km di coda in direzione Mare. In direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve ci sono rallentamenti tra Lastra, Signa e Scandicci. Su raccordo Siena-Firenze per incidente code tra impureta greve e inchianti e l'allacciamento per la 1. Per lavori code a tratti in entrambe le direzioni tra Badesse e Monteriggioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!